Back in ETV Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny e per questa puntata speciale registriamo dal rifugio Bindesi. Mi trovo con un ragazzo bolzanino, Maurizio Riglione. Vi lascio in compagnia del suo brano, Come dietro un sipario. Buon ascolto. Amelia dagli occhi profondi, Due enormi mondi, Due giganteschi soli di pietra brillano, Che la notte non riesce a dormire, Brillano che è quasi sparire, Come dietro un sipario, I suoi capelli neri, La sua pelle avorio, Le sue ciglia. Amelia vibra, E l'universo trema. Che bellezza, Direi, direi, Che bellezza, Direi, direi, Amelia dagli occhi profondi, Due enormi mondi, Due giganteschi soli di pietra brillano, Che la notte non riesce a dormire, Brillano che è quasi sparire, Come dietro un sipario, I suoi capelli neri, La sua pelle avorio, Le sue ciglia. Amelia vibra, E l'universo trema. Direi, direi a te, Direi, direi a te, Goccia di stupore dopo goccia, Vibra, 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 dolce e foglia, Goccia di stupore dopo goccia, Vibra, 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 dolce e foglia, Goccia di stupore dopo goccia, Vibra, 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 dolce e melia. Grazie Maurizio, complimenti, Amelia, chi è? A chi è dedicato questa canzone? È dedicata ad Amelia, che è stata la mia compagna di corso in un corso e mi ha prestato una penna, i suoi occhi mi hanno illuminato e quindi... Da lì un colpo di fulmine. Fu un colpo di fulmine, così gli ho solo dedicato una canzone. Ti ha fatto un piacere, ti ha pagato. Il piacere è ricambiato con una penna, appunto, mi ha dato la penna e gli ho regalato una canzone. Ah, ok, magari facessero così come regalerai penne e matiglia a tutti. Di solito come scrivi i tuoi testi? Allora, di solito compongo i brani partendo spesso e volentieri dalla musica, quindi mi invento un giro di accordi, di qualcosa, poi sopra ci ficco le parole che più si addicono ai miei stati d'animo. Suoni da solo o in qualche gruppo anche? Suono sia da solo che con varie formazioni. C'è una formazione che mi sta sostenendo adesso con questo progetto di cantautorato solista che è composta da contrabbasso, pianoforte e batteria. E poi suono in diversi gruppi, dal rock con i Peggy Germs a la musica africana, musica funky, musica swing, un po' di vari strumenti anche. Ti dai da fare? Sì, mi do molto da fare in questo. Per chi volesse ascoltare i tuoi brani, dove li può trovare? Li può trovare su SoundCloud, basta cercare Maurizio Riglione e ci sono un po' di registrazioni che vanno dal medio al grezzo di qualità e poi c'è la mia pagina Facebook, Maurizio Riglione, è sempre lui. Hai qualcos'altro da aggiungere Maurizio? No, a posto. Saluti da fare a casa. Ciao a tutti. Ti ringraziamo per essere venuto qui, tra l'altro so che ti sei fatto una bella camminata. Sì, è stata una bella camminata. Noi vi ringraziamo per continuare a seguirci, mi raccomando guardatevi le vecchie puntate anche quelle nuove, seguiteci anche sui vari profili social, Balconi TV Trento e Balconi TV. Ci rivediamo alle prossime puntate e i ringraziamenti vanno sempre all'area. Ciao! Ciao!